E' bello vedere così tante persone che hanno voluto bene a papà e a cui papà ha voluto bene. Allora dovrei andarmene. Apro il testamento. Non siete cinque fratelli, ma sei. Alla fine cinque e sei fratelli che cambia. L'importante è essere uniti, no? Ed è tutto. Quindi siamo sei fratelli, quattro madri e papà, per ora. Eh, madonna quanto sei cresciuto? Sì, sì, chi è lui? Se l'è lui, c'è ton frère. Ci sono un sacco di debiti. Voi potete rinunciare all'eredità. Io all'allevamento non rinuncio. Quindi alla fine rimaniamo tutti. Sembra un horror, cazzo. E' morto nostro padre. Sporzati. Vi siete lasciati da 15 anni, oh? E allora? Ci sta ancora male. Io ho sempre pensato che noi fossimo indistruttibili. Se non stai bene, ti devi curare. Mi dispiace per voi, perché mi pare che manco l'avete conosciuto a papà. Ho visto piangere, capisci? Tu dove stavo? Una volta ogni volta di papà ci si incontra, ci si abbraccia. Ci si dice che siamo una grande famiglia, e poi? E poi? Di subito. Da? 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 Grazie a tutti.